ma i i il nemico fa la zona di vantaggio ma ragà ma ma si sono qua ma 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 oh chi sono raga ma raga ma sto citando ma cos'è ma sto citando raga ma cos'è sta no grazie i 120 sono a mano si eh vabbè è qua accendi la luce muoio lo sai ora no come on over here come on over here no you flip me off come on coward no 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 come on you're not an intellectual you're a fake and a fraud primo round uccidete ragà ma c'è un muro invisibile qui ragà sto schiacciando ma c'è un muro invisibile lì ma cos'è bella black grazie per il follow mi sparano mettiamo se tu chieste qua che super cianna nessuna ecco l'eccolo sta arrivando arrivo 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 ma quindi ti metti in una neida ma devi andare giù non so come stavo in alto giù 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 c'è morì madonna questo coi palica fra ci faceva ma sono morto io mi è scendere ma che cos'è no ma raga sono da solo dall'altra parte ah no guarda 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 ci ammatteranno entrambi guarda 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 ma a me da torna indietro a me da torna indietro capo se prima che ci friggono tutti guardali guardali no vabbè sto male per gennaro de ossa stai sprecando una che 3 2 1 no 3 2 1 un cazzo porco dio cazzo di fare un send out finisce in due secondi madonna puttana porco di dio maledetto schifoso aspetta c'è nef fermo c'è posta fermo c'è posta che è fermo madonna troia c'è nef che è un fan di nostro signore maledetto lapidato il signore no 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 ok sì sì sinistra costeggiamo il buco porco no c'è un buco qua no 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 allora di no no andiamo a destra eh a destra sono i rischi del mestiere jack ancora una volta abbiamo evitato per un pelo la falce della morte è normale festeggiare anche se ci capita un po' spesso e ricordati di dire al dex che abbiamo il suo giocattolo oh eh magari è magari potevi non prendere il palo no mentre te ne andavi non è punta mister b o sabro arasaka rogue è ben informata sa buona parte di ciò che succede in città potresti chiederle di helman buona fortuna quella donna è esigente cara e sgarbata non posso più restare qui senti fa come vuoi cerca paca helman chi ti pare io mi farò restituire qualche favore dai miei amici vuoi farmi incazzare? scusa ma? ma che sei un cavalluccio marino? ma cosa sta facendo raga? sono tranquilla cosa? sarà lì che tengono helman panam è rimasta indietro ma non importa devo spunta si teletrasporta qui adesso panam vabbè e mi fa piacere messaggiare con te amore ed è preoccupata vuole vuole fare fighi fighi? speriamo di si non devo rovinare la macchina vado in retro non così ecco cheat porco demoni figa la macchina di bavuscia se quanto devo di pagare? eeeh andiamo con la macchina in teoria questa macchina dove è arrivata? eeeh corri merda 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 le ha sparato comunque sia ora siamo davvero fattuti sapevo che non potevamo fidarci dov'è finito il quinsagno? dobbiamo andare subito via di qui oddio io corro come un pazzo e l'assicurazione secondo me non si riprende più andiamo a quei giacimenti petroliferi ci saranno da divertirsi ma che cazzo stai a di? dai che palle oh si affa' una frecce ma affa' il culo vabbè con roc che si teletro- oh così sembra un busto fico per un appuntamento lo pensavo anch'io eeeh per questo ho suggerito a John di portarmi lì un milione di anni mi dì non è stata una sua idea certo che no la sua idea di sera dormantica consisteva nel far saltare la sacca appena fai qualcosa che mi piace stai sbagliando quel convoglio si carol controlla regolarmente le loro comunicazioni procede tutto secondo i piani amore guarda il mio avventario c'è un fucile a pompa lo vuoi vedere? ahahahahah nancy ok allora il concerto? ok grazie grazie grazie